600.000 euro di bollette mai pagate, per questo il comune di Asti ha deciso di razionare l'acqua in un campo nomadi. Ci fanno già pagare la luce salata, non so quanto pago al mese io. L'acqua che avete già consumato bisogna pagarla. Col cavolo, come stanno dicendo? Altro che cavoli, qui ci vogliono gli euro, 600.000 per l'esattezza, corrispondenti, a danni e danni di bollette per l'erogazione dell'acqua, mai pagate da parte dei sinti, occupanti un campo attrezzato dal comune di Asti, che ora ha deciso di razionare l'acqua. Da un calcolo approssimativo si passerebbe da circa 36.000 metri cubi di acqua erogati a circa 2.200 metri cubi erogati all'anno, questo con un risparmio che vi lascio ovviamente conteggiare, anche perché è facile capire che è più del 90% di risparmio dell'acqua. Il sindaco non può farci pagare delle bollette, non c'era neanche un contatore, come si chiama. Per limitare l'acqua il comune ha provveduto stamani ad installare delle valvole, niente più sprechi, solo il necessario per bere e lavarsi. Io di piscina in questo campo Rom ne ho viste tante, eh? Ma sì, ma questo da quanto hanno consumato l'acqua più nessuno riempie niente. Con il contatore da oggi in avanti pagherete l'acqua. Va bene, per essere nel pulito noi lo facciamo, perché è quello che conta. Non vogliamo che i nostri figli prendano malattie, come non dobbiamo prenderli noi?